Ciao raga, come state? Oggi sono qui in compagnia di Sofia What's up guys? Ciao a tutti! E' agitatissima! Super carica, è mattino prestissimo e siamo qui per fare degli esercizi Ci insegnerà un po' di trick Oggi si fa la ginnastica E' bello, con le spalle mussate completamente E quindi siamo negli sfogliatoi, Marta è andata due secondi in bagno E ci è molto in mente l'idea Faremo un piccolo scherzo a Marta No, no, no Mentre saremo lì praticamente a riscaldarci A iniziare a fare gli esercizi che ci dirà lei Praticamente calcoleremo il dettaglio di rabbia di Marta Come lo calcoleremo? Io praticamente farò finta di flirtare con Luca Cominciano a fare dei commenti tipo Ma questo è bello oggi, non so Mi verrà improvvizzato lì a momento Ma ecco, no, guarda Fanno così un esercizio di trucchi qua Oppure io inizio a dire Ah, ma perché io sto sudando Mi ne ho una maglietta Poi fare una cosa così Dobbiamo farmi credere che Mi servono tanto affini, verità, capito? Tipo un momento a fare un esercizio Tu dici, no, è quel bacio, vedi? Deve tenerlo più morbido Secondo me quello che ne dà tanto fastidio È il contatto Quindi tu devi sempre... Ok Ok, no, metti in braccia cosa fai? Ma che belli muscoli Con i miei mali Io ragazzi, io proverò davvero A non scopiarli a ridere Ci proverò tantissimo Dai, che ci possiamo fare? Marta, se stai guardando questo video Ti chiedo scusa, perdonami Però che possiamo essere amiche dopo Let's go Ok, ora inizeremo a fare il video Come un video normale Quindi ci mettiamo con la telecamera Inizeremo a fare un video normalissimo Ci siamo Stiamo per partire a fare gli esercizi Che ci dirà Sofia E niente Adesso ho già riuscito a me spaccato Ok Direi che possiamo fare un po' di stretching Giusto per scadarci Vuoi stare vicino a me Luca? Ok, va bene, va bene Ok, allora Facciamo le mani A terra Ok E cercate di... Con i piedi chiusi Con i piedi chiusi Bravissimo Piedi chiusi E poi piego E' vero che è un portugno sulla spalla, giusto? Sì, sì Su questa spalla Ah, questa qui Ma come va oggi? Ma ogni tanto Quando cambia il tempo Mi fa parecchio male E non la devo sforzare troppo Ok, allora Parallele evitiamo oggi Infatti vedi, se tocchi qua Un po' si sente, no? Mamma mia Però sei strai muscoloso Ma grazie Grazie Ok, spalle Io sto pensando un cifo Mi devo la maglietta No, la maglietta no Sì, ma sì No, la maglietta è plena Sì? Sì, tienila Ma fa caldo Cioè, meglio se lo toglie, no? No, vabbè, la tengo La tengo, va bene Adesso facciamo pancakes Questi si chiamano pancakes Cosa? I pancake Ok Facciamo i pancake I pancake Tieni la mano Ti tiro Bravissimo Ok Sai che dopo questi stretching Un po' mi fa male la spalla Oh, davvero? Anche la schiena Oh no Fammi vedere un po' Tipo questo, male Sì Ti faccio un attimo Un piccolo massaggio Ok, va bene Sistema Un po' Va dietro Sicuramente un bel massaggio ci stava Di brutto Sì, ma te lo facciamo io Eh, vabbè Vabbè, inesperta, Marta Ok Come va? Un po' meglio Meglio, meglio Decisamente Io e Drake possiamo portarli Entrame, ragazzi Ok, va bene Va bene Va bene Che cosa? Non ti farei toccare Ma non mi sta toccando Ma non è vero Top Ok, ragazzi E adesso Facciamo un po' di trave Quindi Vi spiego un po' Come funziona Trave non Che belle unghie che hai Grazie Ti piaccio Guarda qua Che belle, Marta Hai visto? Grazie Grazie Allora Su questa trave Dobbiamo fare i salti E anche i salti artistici Mi ripieno di fare questo salto No, no No Però se vuoi fare qualcosa Luca ti tengo io Ti faccio assistenza Ah sì Volentieri Davvero Va bene Allora Proviamo a salire Per cosa L'aiuto L'aiuto io Marta Guarda che ce la faccio Capri io Gli uomini La vita Meno male A me non mi aiuta mai A casa Tutto questo aiuto Oggi Gli è venuto a lui Sì Non mi aiuti mai Ok Eccoci qua Ok Fammi mettere a me in mezzo Eh ma vabbè Vabbè a me siamo così Marta Qual è il problema No Ok Adesso ragazzi Proviamo un attimo A testare il nostro equilibrio Ok Quindi Su un piede Questo si chiama arabesque Lo dobbiamo fare Io non lo vedo Tiro su la gamba dietro Esatto Bravo Così Esatto Bravissime Oddio Ma stai Cioè Raga Vabbè ma io è troppo caldo Mi levo la maglietta È un problema Sì direi che è ora Sì Levalo Let's see your muscles Stavo morendo più caldo Guys Vedono le mutande Eh vabbè Anche se si vedono Qual è il problema Facci un bel flex Oh my gosh Ragazzi Ma Ti ho messo Ti ho messo in forma Ti ho messo in forma Per fare questo video Allora Mi sono allenato Un pochetto Sì Ma che diraggissimo Non fai niente a casa Scusa È la verità Non è che solo che sei in video Poi lo tagli questo Però Pronti È così come se ci stessimo quasi per baciare Oddio è vero No Come va Marta Sì bene Ok Ti stai divertendo Marta Sì sì Ok Bene Solo che Luca con i piedi mi va così addosso Eh E io non riesco a piegarmi Ah 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 Allora scostiamoci un pochetto più in là No 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 Stai mettendo il piede in faccia Ok Deve stare centrale Scusami Ok Sì se no noi due ci mettiamo un po' più qui Marta Eh infatti infatti Così sei più comoda Come volete Cos'è pure più spazio Eh dai prova a farlo però Che io? Eh Ah lo faccio io? Vai Ok così Vai ti tengo Ok grazie Ah due pettorali mi sta tenendo Come volare Come essere Ok Ok Prossimo test Brava Grande C'è il graffiato dietro Ah sì? Sì Ah non sono stato io Magari si soffi con le unghie Eh sì Sei graffiato C'hai per graffi È vero Ma non lo so io Ok E adesso Proviamo un salto Quindi questo è un test di coraggio ragazzi Ok Siamo pazzi Questa è Così Bravissimi Esatto Esattamente Oh però Continua a impressionarmi Davvero Ok Andiamo avanti ragazzi Al trampolone Che dite? Ok va bene Pronti Adiamo Ecco qua Adesso Luca ti faccio una sfida però Ok Ti fai il giro Ok Fai il giro Aspetta che ti faccio vedere Tu fai così E poi arrivi seduto Ok Quindi Fai un giro Ok Ma va bellissimo Ok Provi più? Ci provi Alla grande Non so che ti l'ho fatto a stare in piedi C'è Un giudazzo proprio Ho fatto il video Però facevi schifo Questo lo taglierai No no Vuoi vedere No lei vuole vedere solo te Vai solo tu Il prossimo Infatti anche questo Lo devi fare tu Luca Ok Allora Adesso Facciamo Un salto Un salto Arriba di schiena Ok Tanti decenni di ruota Decenni di relli Non fa niente a casa Capito E poi ci rimane Un salto E poi lo tagli No E poi lo tagli Non lo fa La velocità No E Difficile questo Lento sul petto Lento sul petto E addominali forti Le ho toccate So quanto sono forti Bravissimo e questo serve per fare gli esercizi e trovare più coraggio sì perché così si fai male esatto perché sei intratta anche te e che devo fare lì non ho fatto gli esercizi non hai fatto i nostri esercizi si l'ho fatto mentre riguardavo vedete i segreti ma no ma non era un segreto stava facendo una battuta si era solo una battuta era una battuta pronto pronto che cavolo ma sei pazzo vedi che non ti avrei fatto male però ti devo infidare di me e allora figurati se l'aginato lei e cazzoletta ti poteva far male no ma guarda ti piti? sì 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 e perché di me? grande sapevo che potevo fidarmi di te lo sapevo ma quanto è bravo eh quanto è bravo troppo bravo sì sì lui è atletico è una signetta ma voi siete fidanzati ma non non è un cadastro ma ci stiamo frequentando ma ci stiamo frequentando esatto ma va no no noi siamo fidanzati ma non ufficialmente fate ridere tu che dici che non sei fidanzato ma no ma sì che sono fidanzato non è vero che non sei fidanzato è fidanzato non è vero che non sei fidanzato è fidanzato ci siamo frequentati per tanto tempo ma siamo fidanzati non è che io ho un altro no ma io ho capito cosa intendeva lei che non ho l'anello che non abbiamo un anello che tu non hai un anello comunque che fisico mamma mia grazie davvero continui a dirlo veramente proprio qua e anche qui faccio vedere il flex ancora ma il rugby perché io come ti ha detto prima Marta non è che mi alleno spesso e quindi sono anni che mi alleno però ho fatto 12 anni di moto 13 di rugby e quindi fisico mi è rimasto si vede proprio eh però lo devi pompare un po' eh ora che se non fai niente poi ti smagrisci beh sono anni che io non faccio niente sei magro comunque sei un po' troppo magro secondo me sono troppo magro? no è un figo non ti preoccupare meglio così comunque sei tutto graffiato guarda lo giuro guarda 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 qui pure qui sei graffiato è davanti guardati starà lasciando dei segni su di me sei graffiato troppi abbracci oggi un altro vi faccio fare l'ultimo esercizio e questo sarà divertente sei pronto? si certo ok vieni vicino 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 ok esatto tienimi forte ok sei pronto dobbiamo saltare facciamo uno due tre un giro insieme però dobbiamo tirarci forte ok ok ma già ora esatto tienimi e uno due tre aspetta ma che parte giriamo? non dobbiamo girare non abbiamo scelto la direzione è vero facciamo l'altra volta ok giriamo verso di qua ok di qua ok ok dai quindi così ok si ok pronto ok vai e... un due tre ahhh ahahahah 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 io quasi ho tirato un calcio però ah una gomitata ahahahah 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 no però ci sei scusa un po' esagerato perché? ma lì che nel video si vede che tu abbracci lei eh vabbè ma stiamo giocando e dai mi fai sentire in disagio così stiamo giocando Marta eh lo so però io esclusa da tutto sto video La trave è esclusa, lì è esclusa Marta, guarda Diamo che non faccio un piccolo scherzo oggi Non siamo messi d'accordo per fare così Un piccolo prank che abbiamo voluto fare Lo faceva Costa? Allora era vero che ti toccava? Allora era vero che lo toccavi Ma sei uno stronzo, Luca Non lo so Non lo avrei mai, mai, mai fatto Mi stavo nervosendo, Sofì Io stavo morendo dentro Ma no, perché io Non ce la facevo più Io sapevo che qua dovevamo fare l'eserfizio insieme E' esclusa, lei lo toccava Ma non ho visto che lo faccio qualche volta Non ce l'avrei mai fatto davvero Io non sono riuscita a guardarlo negli occhi tutto il tempo Sì, ma perché cavolo Tu a un certo punto hai detto che non siamo fidanzati Io lo tocca L'irla gelata L'irla gelata L'irla gelata Me l'ho già preventilata Che accanto Che non ho fatto l'uncule No, non per arrivare in macchina Ma vabbè ragazzi No, madonna Le mie forze Quanti prank fa a Marta Troppi No, basta Mi vendicherò Allora, scusami Ma scusa Marta No, devi distruggerlo fisicamente Andiamo a fare i potenti a me Andiamo a fare un percorso Un super percorso Devo fare Che mi hai detto Lo vedrete sul suo canale Quello di Sophie Ma cosa che farebbe uscire anche un video sul canale di Marta Ma scusa ma anche quando mi sono tolto la maglietta Perché mai dovrei fare esercizi senza maglietta Perché tu sei un pochino Megalomane Quindi della maglietta Te la potete togliere Però lei ti toccava Che bel pezzo raro Il massaggio all'inizio E quando ero sulla trave Mi devi dare un pezzo raro Bene ragazzi Se vi è piaciuto questo scherzo Non dovete fare altro che Lasciare un like Cliccare sulla campanella Vi metto in descrizione Non mettete like Non lasciate i commenti Usciranno sul canale di Marta E di Sofia E di Sofia Continua a rire Grazie Guarda guarda Grazie mille Adesso andiamo a A fare cose serie Vieni vieni Mi fa male un po' la schiena Mi farei più Sto scherzando Mi ha guardato malissimo Ancora? Grazie